In un mondo sempre più votato all'internazionalizzazione e caratterizzato da importanti flussi migratori, la conoscenza approfondita di più lingue straniere offre la giusta chiave di accesso a mentalità e prospettive diverse sull'esperienza umana. Una competenza plurilingue matura è sempre più richiesta nei contesti a forte vocazione interculturale, dove c'è bisogno di figure capaci di comprendere e dominare le peculiarità socio-stilistiche correlate ai mutevoli contesti comunicativi. Per raggiungere un livello così profondo di competenza linguistico-culturale, è necessario continuare gli studi dopo la laurea di primo livello, scegliendo un corso magistrale adeguato. Il corso di laurea magistrale in scienze linguistiche, letterarie e della traduzione è la naturale prosecuzione delle lauree triennali nelle classi L11 e L12. Sarà possibile scegliere tra tre ambiti di specializzazione qualificanti, ovvero filologico letterario-metalinguistico, traduttivo oppure didattico. Sono previsti un percorso di eccellenza, che comporta il rimborso delle tasse, e il doppio titolo italo-tedesco, che consente di svolgere un semestre presso l'Università di Bielefeld. Il laureato potrà svolgere attività di insegnamento o lavorare nel campo della traduzione, dell'editoria e della scrittura cinematografica e creativa. Ulteriori possibilità di impiego sono le società di gestione convennistica e museale, gli istituti di cultura all'estero, le ONG oppure le aziende, operando come social media membri. Parlare, interpretare, conoscere, concepire il mondo. Grazie a tutti.